L'associazione Pescara Mi Piace ha inviato una lettera al prefetto di Pescara Gerardina Basilicata per denunciare quello che accade lungo la riviera, queste bangarelle di abusivi, di extracomunitari che stazionano per ore lungo il litorale di Pescara, fosche e così. Si sono trasferiti in altre zone della città e hanno invaso letteralmente la riviera. Il giorno di Capodanno è stato offerto a chi si trovava a Pescara uno spettacolo indecoroso, indegno ma soprattutto la mancanza di controlli. Non parlo dei vigili urbani base ma della vertice dei vigili urbani che hanno ignorato il fenomeno e hanno consentito uno spettacolo indecoroso. Voglio ricordare che centinaia di commercianti di Pescara vengono tassati a morte con i rifiuti, con l'ombreggio, con tutto, con le aree occupate e questi signori abusivi che vendono merci contraffatta agiscono indisturbati. Tra l'altro lei parlava proprio di questo mercato etnico che dovrebbe probabilmente un domani sorgere nel tunnel dell'area della stazione. Se ne continua a parlare in consiglio comunale però voi ovviamente continuate ad essere contrari a tutto questo. Certo, contrari, soprattutto una spesa di 250 mila euro che cadranno sulle teste di cittadini di Pescara per consentire un mercato definito etnico, lo ripeto, ma con vendita di prodotti contraffatti, forse anche merce rubata. Non è possibile una cosa simile. Tra l'altro nei giorni scorsi si è denunciato un altro fatto. Il sindaco aveva ordinato la chiusura del tunnel che dovrebbe ospitare il mercato etnico ma in quel tunnel ci sono ancora persone che muoiono, persone che vanno a dormire. Ultimamente c'è stato anche un incendio doloso che ha messo a rischio la vita dei barboni e dei clochard presenti in quel tunnel.